Demonizzato da alcuni ed esaltato da altri, il nuovo codice degli appalti è visto come un'opportunità eccezionale per la Sardegna nel cui elenco delle opere incompiute si annoverano alcuni interventi fondamentali per la viabilità o in generale per migliorare l'esistente. Tra le mai iniziate, derubricata ad un gradino più basso delle cosiddette incompiute, c'è la strada Olbiard-Zachena-Palau. Santa Teresa ha recentemente teatro di una manifestazione di protesta che ha portato sulla strada politica associazioni sindacali e datoriali e oggetto tra varie infrastrutture, di un recente vertice da remoto tra Regioni e Ministero delle Infrastrutture. La Regione ha chiesto un'iniezione di fondi da parte del Governo rappresentando le esigenze economiche dell'isola rispetto ad alcune arterie di primaria importanza, tra le quali la strada che collega Olbia con la costa tra le più trafficate dell'isola. In attesa delle risposte del Ministero, l'assessore Pierluigi Saiu ritiene che il nuovo codice degli appalti con gli alleggerimenti burocratici previsti potrà essere utilizzato anche per le opere pubbliche. Noi riteniamo che anche con la riduzione dei livelli progettuali e l'introduzione del dissenso costruttivo si possa procedere più rapidamente, quindi sì, riteniamo che nel tempo anche il nuovo codice dei contratti possa aiutare a realizzare le opere pubbliche in tempi più brevi. Per la FIT-CISL non è solo, però, questione di burocrazia. La lentezza nell'esecuzione delle opere sarebbe da imputare alla mala gestio della regione. Lavori al palo che ammontano a quasi 2 miliardi di euro per l'inerzia della gestione commissariale. Sulla carta, oltre la nuova 125-131 bis nel tratto tra Olbia e San Giovanni, ci sono la statale 131 nel tratto a nord tra Sassari e Bivio per Olbia, la 554, la 130 con l'eliminazione degli incroci a raso tra Cagliari e Decimomanno, il completamento della quattro corsie tra Sassari e Alghero e ancora la sulcitana Cagliari-Pula e l'istmo con l'isola di Sant'Antioco, infine il primo lotto della statale 125 tra Tertenia e San Priamo.